Giornata sostanzialmente positiva quella delle sette squadre ennesi impegnate nei rispettivi campionati. Il bilancio è di tre vittorie, due paregge e due sconfitte. Vince la Leonfortese in Serie D contro la capolista Acragas. La squadra di Mirto si impone per 2-1. In classifica la Leonfortese è al secondo posto con sei punti in condominio proprio con l'Acragas. Pareggio casalingo per il Truina contro il San Filippo del Mela 1-0-0 che porta sette i punti in classifica per il Rosso-Blu di Pagana ed il primo posto in classifica insieme ad altre tre squadre. E' iniziato il campionato di prima categoria. Nel girone C la Branciforti batte la Polisportiva Palma per 2-1. Il Città di Castellana batte il Città di Nicosia per 5-1. L'Enna batte il Cramarusa per 2-1. Il Rea Suttano si impone sulla Barrese per 2-0. In classifica in testa la Branciforti e l'Enna con tre punti ultime Barrese e Città di Nicosia a 0. Esordio in prima categoria nel girone F per la Gira che fuori casa pareggia per 3-3 contro il Cometa Biancavilla. In classifica la Gira è quarto con un punto. In classifica la Gira è quattro con un punto. Grazie a tutti.